Abbiamo fatto un po' di errori di troppo, soprattutto nelle parti un po' più critiche e quindi magari dovevamo essere un pochino più ciniche per poter riuscire a chiudere o comunque avere un po' meno fretta in alcuni casi però credo che ci sia tanto margine di miglioramento e si sono viste delle belle cose e quindi c'è solo da aumentare queste belle cose. Ma insomma noi comunque siamo un gruppo che gioca da poco assieme e quindi sono contenta per le due partite che abbiamo vinto e comunque come ho detto per le belle cose che abbiamo fatto vedere anche nelle partite in cui poi alla fine abbiamo perso e quindi positivo direi.